Prosegue a me la corsa senza sosta del rialzo dei prezzi al consumo. Ce lo dice l'Istat, addirittura nel mese di giugno si è verificato un aumento dell'1,2%, il che sta a significare su base annua oltre l'8%, erano 36 anni che l'inflazione non era così alta, difatti era dell'8,2%. Purtroppo temiamo che questa corsa al rialzo, se non interviene lo Stato energicamente non si fermerà e quindi l'inflazione sarà ancora più pesante. Ad oggi il costo annuo per ogni famiglia supera già i 2.600 euro.